La figura di Landauer è stranamente dimenticata nella storia del pensiero politico, in particolare della storia del pensiero anarchico, il che lascia piuttosto perplessi, perché in effetti fu una figura piuttosto importante nell'anarchismo tedesco e anche molto rilevante sul piano internazionale. Intanto vive in un periodo storico speciale che è quello che vede la rinascita del movimento rivoluzionario in Germania dopo la fine dell'epoca di Bismarck nel 1890. Rinasce un movimento libertario in Germania in quel periodo e Landauer assume immediatamente un ruolo importante. Come fondatore, co-fondatore, poi direttore di un giornale molto vivace che si chiamava il socialista. La cosa non è priva di interesse. Dalle colonne di questo giornale fu un critico rigoroso, spietato in certi casi, ma certo sempre molto acuto, della linea dominante nel socialismo tedesco-internazionale, quella socialdemocratica, la linea socialdemocratica di Kautsky, di Bebel, di Bernstein, insomma. Quindi un attacco all'idea che il socialismo, la società ideale del futuro, sarebbe stata consegnata al mondo dallo sviluppo delle forze produttive, dallo sviluppo del capitalismo o da qualche altro tipo di sviluppo, di progresso. Ecco, la critica del progresso è uno degli elementi interessanti di questo giovane Landauer. reputa che il socialismo libertario, l'anarchia in una parola, non sarà frutto di alcun progresso, ma della volontà, orientata a uno scopo, di un movimento cosciente, fatto di individui. Quindi, prima di tutto, l'anarchia, la società del futuro, è il risultato di una trasformazione insieme sociale, politica e spirituale, importante e riguardante tutti gli uomini e le donne. Ecco, questo è un altro elemento interessante. Landauer non fu un classista, non che non riconoscesse il fatto che la società, nell'epoca del capitalismo, sia divisa in classi sociali, ma non pensava, e questo è un punto importante, che una classe in particolare avesse ruolo, privilegiato, di portare l'intera società sui lidi della società, della società futura, dell'anarchia, dell'anarchosocialismo. Pensava, invece, che naturalmente il capitalismo provocasse la distinzione, la divisione in classi della società, ma, ripeto, non credeva che la classe operaia avesse un ruolo privilegiato sulla strada della costruzione della società futura. La società futura che sarebbe stata insieme anarchica e socialista. Per lui i due termini non avevano, non dovevano essere messi in opposizione. L'anarchia era il fine, in qualche modo, l'assenza di dominio, l'assenza di Stato, il libero godimento della vita da parte dei singoli individui, e il socialismo costituiva il mezzo per raggiungere questo obiettivo in quanto unione solidare degli uomini in tutto ciò che è loro comune e nel lavoro cooperativo. Quindi, il socialismo come mezzo che rende possibile, che avrebbe reso possibile, la società anarchica del futuro. In tutto questo, naturalmente, si vede una concezione etica dell'anarchismo, una correlazione tra mezzi e fini, che non è un dato originale, non è il contributo originale di Landauer, che lo recupera da una tradizione risalente. Ciò che è interessante in Landauer è il realismo che accompagna questa visione. Certo, i mezzi devono prefigurare in qualche modo i fini. Poi, una volta prese le decisioni autentiche, scelte le strade per arrivare alla società futura, non bisogna disprezzare, dice Landauer, mai la misura del possibile. Fare i conti, insomma, con l'esperienza viva delle lotte concrete, in cui Landauer, peraltro, fu anche direttamente impegnato. Da ultimo, nella rivoluzione dei consigli di Baviera, che lo vide addirittura per un breve periodo ministro della cultura, durante il periodo che andò dal 7 aprile del 1919 al 1 maggio, quando le truppe contrarivoluzionari repressero nel sangue quell'esperimento e Landauer trovò la morte il giorno successivo. Infine, dal punto di vista teorico, il dato più interessante, il contributo più interessante di Gustav Landauer è, a mio giudizio, la sua visione dello Stato. Ecco, lo Stato per lui non è un oggetto che debba essere preso, contestato e distrutto. Lo Stato è qualcosa di più complesso e, e qui riprende naturalmente, il contributo di Kropotkin è un surrogato del legame sociale autentico, che però questo legame sociale va in qualche modo ricostruito superando lo Stato esistente. Cosa significa? Significa che lo Stato non è un oggetto, ma è esso stesso un rapporto sociale che non si abbatte o si distrugge come si farebbe con una cosa, ma si modifica cambiando il modo in cui gli uomini e le donne si rapportano tra di loro. In questo, naturalmente, c'è un'idea del cambiamento sociale che non richiede l'assalto al cielo, la conquista e la distruzione dello Stato, ma la costruzione paziente negli spazi che nell'esistente sono lasciati liberi di una vera e propria controsocietà. E in questo c'è il lascito più interessante e originale di Gustav Landauer.